Fine settimana all'insegna dei controlli per gli uomini della Polizia Stradale di Ragusa e Vittoria che diretti dal vicequisto raggiunto Gaetano Di Mauro hanno passato a setaccio il territorio provinciale per prevenire le cosiddette stragi del sabato sera. Sei gli automobilisti risultati positivi ad alcol test, ben quattro fermati a Modica nelle prime ore di domenica mattina. Si tratta di un ragusano di 30 anni trovato con un passo pari a 0,52. Per lui scatterà una sanzione di 500 euro oltre alla decurtazione di 10 punti patente. Positivo anche un altro ragusano, 20 anni, neopatentato, il cui tasso alcolemico è risultato pari a 0,57. Sanzione prevista in questo caso 666,67 euro e decurtazione di 10 punti. Un palermitano di 36 anni è stato trovato positivo con un tasso pari a 0,59. Anche qui una sanzione di 500 euro e la decurtazione di 10 punti patente. Infine nei pressi del polo commerciale una ragusana di 34 anni è stata trovata con un tasso pari a 1,40. La soglia per l'illecito penale è 0,80 grammi di etanolo per litro. Per questo è stata denunciata alla procura di Modica. Altre due persone sono state fermate a Comiso nei pressi del centro abitato. Un'automobilista gelese di 32 anni trovato con un tasso pari a 1,24 ed una savonese di 20 anni con un tasso pari a 1,12. Per entrambi è scattata una denuncia alla procura di Ragusa. A tutti inoltre è stata ritirata la patente di guida. Infine nel corso dei controlli su strada gli agenti hanno denunciato a Modica per uso di atto falso uno ciclitano di 33 anni che alla guida di una BMW X5 avrebbe esibito agli agenti un tagliando assicurativo risultato falso a seguito degli accertamenti esperiti tramite banca dati. Grazie. Grazie.